Il 18 gennaio è l'anniversario della nascita in cielo della beata madre Teresa Fasce, la beata che fece conoscere Santa Rita in tutto il mondo. Oggi vi accompagneremo nella conoscenza di questa beata e andremo tutti insieme a Cascia. Ma prima Giacomo? Prima transitiamo per il centro del nostro studio perché naturalmente il viaggio parte da Roma e con chi? Ma con Don Mimo Minafra che è tornato a trovarci! Buongiorno! 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 Buongiorno, ben trovato! Buongiorno! Nella trasfigurazione a Bitrito. Un viaggio bellissimo quello che faremo quest'oggi. Santa Rita poi anche ce l'abbiamo tutti quanti nel cuore, te particolarmente. Non tutti però conoscono, hanno la fortuna di conoscere la figura della madre Fasce, della beata madre Fasce. Sì, grazie alla madre noi possiamo dire che il culto a Santa Rita è diventato un culto mondiale perché lei si è lasciata guidare dallo spirito, si è lasciata forgiare. E in questo lavoro che lo Spirito Santo ha fatto in lei ha ispirato non solo la costruzione materiale del nuovo santuario, dell'alveare, eccetera, ma ha dato, come posso dire, un tono materno all'accoglienza di tutti coloro che nel nome di Santa Rita si recano a Cascia. Don Mimmo, Santa Rita è stata canonizzata nel 1900 e la madre Fasce viene a conoscenza di Santa Rita. Sì, rimane entusiasta possiamo dire. Questa è una bella, come devo dire, è una bella esperienza di fede perché i santi ispirano gli altri santi. Perché conoscendo Santa Rita, conoscendo tutte le vicende legate a questa donna, questa donna santa, madre Fasce si lascia ispirare e quindi la sua vocazione guardando Santa Rita trova proprio la sua massima ispirazione. E per conoscere meglio la beata Fasce, ma anche per ripercorrere naturalmente i passi di Santa Rita, vogliamo portarvi a Cascia, dove ci aspetta Sor Maria Rosa Bernardini, spriora del monastero di Santa Rita d'Acascia. Dove ti trovi? Buongiorno! Buongiorno! Allora, riposa il corpo della beata Maria Teresa Fasce. Ecco, mi sorprende vedere come il Signore scrive la storia. E con una donna del 1381, che nasce a Roccaporena, parliamo di Santa Rita, e una ragazza che nasce a Torriglia nel 1881, il 27 di dicembre. Ed è la beata Maria Teresa Fasce. 500 anni che veramente dicono, possono dire tanto, perché una ragazza poi di 18 anni, all'improvviso, viene a conoscere Santa Rita, perché nel 1900 il Papa Leone XIII, il 24 maggio, la proclama santa. E Teresa è aiutata dei padri Agostiniani a conoscere questa figura meravigliosa di Santa Rita. E si innamora. E intuisce che quella donna, nonostante sia vissuta tanto tempo addietro, può essere ancora un segno per le nuove generazioni. Può dare ancora un contributo nel suo grande capacità di amare. E' così che si lascia guidare e scopre la vocazione. Così decide proprio di dedicare la sua vita proprio lì, a Cascia. Ma non è facile per lei, perché né la famiglia si oppone, perché dice che è un paese lontano, di montagna. Invece anche il monastero dice, ma cosa avviene a fare qui in una signorina di città, col capellino, in un paese sperduto, tra le montagne, in un paese rurale. Però paziente, ma con la forza di chi è veramente, sta seguendo il Signore, a 25 anni alla fine lo spunta e arriva a Cascia. Grazie allora, Sor Maria Rosa, ci vediamo fra pochissimo, ci ricolleghiamo con Cascia per seguire le orme appunto di questa beata. Don Mimmo. Sì, questa storia ci fa comprendere la fantasia di Dio, perché i tempi di Dio non sono i tempi degli uomini. Perché Santa Rita, abbiamo ascoltato, è nata nel 1381, e anche qui possiamo trovare già un parallelismo tra la vita di Rita e quella della madre, perché lei è nata nel 1381 e la madre nel 1881. I tempi di Dio sono altri, sono diversi dai nostri, per cui una Santa così antica diventa Santa nel 1900. E grazie a questa canonizzazione la madre intuisce che la sua vocazione può essere perfezionata proprio nel monastero di Cascia. E nel monastero lei fa anche un ingresso un po' particolare. Infatti Don Mimmo ti volevo chiedere proprio questo, quando arriva a Cascia, intanto come arriva, ma che monastero trova? Sì, innanzitutto dobbiamo dire che la madre nasce in una famiglia molto agiata, per cui lei aveva anche un modo di vestirsi sicuramente diverso da quello di una ragazza del popolo. Per cui lei va a visitare questo monastero dopo tante insistenze. Ovviamente le monache, sapendo che questa veniva da una famiglia molto agiata, attraverso i loro criteri di discernimento, pensano di farla entrare non dalla porta ufficiale del monastero, ma attraverso la porta della cantina, che era chiusa da 30 anni, per cui era piena di ragnatele, e ti vedi arrivare questa ragazza col cappello. E chiaramente lei tranquillamente, non solo ci entra volentieri, ma attraverso questo passaggio ci fa comprendere già un altro aspetto della similitudine che ci può essere tra la vita di Rita e l'entrata nel monastero della madre. Perché Rita, per vagliare la sua vocazione, la madre Badessa le chiede di innaffiare un ramo secco. Alla madre viene chiesto appunto di entrare attraverso questa porta, dove lei trova un monastero sicuramente non come quello che conosciamo adesso. Per cui l'opera della madre è stata fatta anche grazie a un lavoro, diciamo così, di restauro che lei ha effettuato in questo monastero e nella comunità tra le monache, cercando di riportare innanzitutto l'osservanza alla regola di Sant'Agostino, un equilibrio all'interno della comunità, e subito dopo ha dato inizio a questi grandi lavori, di cui è vero che apparentemente lei potrebbe essere sembrata un po' un'imprenditrice, ma lei veramente si è lasciata guidare dallo spirito. E questo è meraviglioso, perché ripeto, è una storia bellissima questa, perché Santa Rita è diventata la santa, forse è più invocata in tutto il mondo, almeno dal punto di vista di una figura femminile dopo Maria, grazie all'intuizione di questa donna, la quale ha messo insieme i lavori dal punto di vista materiale e il lavoro che lei ha fatto nell'accoglienza dei poveri e dei piccoli, di cui magari dopo ne possiamo parlare. Don Mimo, questa mattina in studio abbiamo ospitato la storia di due genitori che pur non potendo avere figli sono riusciti ugualmente a esercitare la genitorialità. È una storia di fecondità e la stessa Santa Rita e la stessa madre fascia ci riportano a quella fecondità, a quella maternità che viene esercitata fino alla fine. Sì, perché l'esperienza che si vive in quel monastero tutt'oggi, grazie all'esempio della madre, ci parla di una maternità che veramente è forse la più bella espressione dell'accoglienza, perché lì dove si è capaci di accogliere si diventa genitori. I figli, dico sempre, sono quelli che si amano innanzitutto. E c'è una cosa che mi colpisce, perché ogni volta che vado a Cascia il parlatorio è sempre pieno di gente. Tra l'altro nel discorso commemorativo scritto sulla lapide della Beata si parla di questo santuario costruito perché diventi come un faro, ed è vero. Cioè quando si arriva a Cascia, io lo vedo sempre nei pullman, appena si gira l'angolo e si scorge Cascia con questa chiesa tutta bianca, tanta gente piange di commozione, di gioia, perché già sa che c'è una persona che l'accoglie. Ed è proprio la maternità della madre che ha fatto sì che tanti pellegrini si sentissero accolti in questo luogo così particolare. Grazie Don Mimmo. Noi vogliamo ritornare a Cascia dove ci aspetta Suor Maria Rosa Bernardinis. Suor Maria Rosa, ci sei? Sì, ci sono. Ancora buongiorno. Suor Maria Rosa, dove ti sei spostata? Dove ti trovi adesso? Sono nella cappella dove noi monache abbiamo la possibilità di celebrare la Santa Messa conventuale insieme con altri, anche i pellegrini, o quelli non tanti naturalmente. Suor Maria Rosa, stavamo parlando in studio della maternità. Ed è parte della vecchia chiesa. Sì, le dicevo che stiamo parlando della maternità, della Beata Madre Fasce, la maternità di Santa Rita. Come portate avanti voi, nel vostro carisma, ancora questa maternità, quell'ascolto? Guardi, io vorrei prima di tutto partire dalla Madre Teresa Fasce. In questo senso, lei quando è entrata con entusiasmo nel monastero e due anni dopo, come professa, lei gli si aprono gli occhi perché prima era innamorata, innamorata del Signore, innamorata della vita monastica, quindi era protesa verso il bello, no? Quando diventa professa, quindi quando emette i voti ed entra nella vita comunitaria in modo abbastanza pieno, si accorge che la comunità non è quell'idilio che lei aveva immaginato. e quindi passano due anni difficili in cui lei è a un momento di crisi profonda e chiede quasi un anno prima della professione solenne di poter tornare a casa per fare discernimento. Perché dice, ma voglio davvero vivere la vita agostiniana così o mi sono sbagliata io? e secondo me il suo rientrare a casa sua, a casa sua, diciamo, tra la sua famiglia, vivendo anche in clausura perché usciva solo per la Santa Messa. E lì, secondo me, toccando quello che lei dice, il suo limite, e lei parla del suo nulla, in realtà il suo cuore viene purificato e si apre proprio alla dimensione di accoglienza materna. E come diceva anche il padre, la sua famiglia è una famiglia anche imprenditrice perché aveva un albergo, gestiva un albergo. E quindi penso che da lì la madre Teresa ha deciso di rientrare in comunità e il suo cuore si è aperto all'accoglienza materna. E lo vedo in tutte le sue opere. Dal momento in cui entra in comunità, e subito si accorgono le monache del suo cambiamento, della sua capacità e dopo due anni diventa maestra delle novizie. Dopo, nel 1917, la fanno madre vicaria, quindi che affianca la superiore. E nel 1920 diventa badessa. Quindi voglio dire, c'è un crescendo di accoglienza, di maternità, cominciando dalla sua comunità. E poi questa capacità di cogliere la presenza di aprirsi a questa maternità anche verso l'esterno, quindi l'accoglienza al pellegrino che comincia a venire anche attraverso le sue doti di imprenditrice di Dio. L'abbiamo così noi denominata. Per cui cogliamo, ecco, e poi nel suo atteggiamento materno nell'accogliere, nel rendersi conto delle necessità del tempo sociale di cui ci sono tante orfane, orfane di guerra. E quindi, ecco, l'accoglienza ad aprire anche la clausura all'accoglienza delle orfane. E poi, ecco, questa sempre continua maggiore accoglienza verso chi è nel bisogno e, naturalmente, questo fa di lei questa grande donna che ancora oggi noi possiamo vedere nelle sue opere. Grazie. E noi, naturalmente, ci sentiamo partecipi di questa situazione, no? E vogliamo contribuire anche noi, in qualche modo, a portare avanti questa ricchezza. Siccome Rita è diventata mondiale, vogliamo aprire le braccia anche un'accoglienza mondiale. E lo fate, lo fate, lo fate benissimo. Noi, nel 2012, con la Fondazione Santa Rita, abbiamo aperto questa possibilità anche all'estero. Sor Maria Rosa, continueremo a parlarne tra un po'. E anche oggi, vediamo, grazie. Continueremoci, intanto ci rivediamo tra qualche minuto. Vi chiediamo anche un regalo, quello di portarci proprio davanti al corpo di Santa Rita. Vi richiamiamo tra qualche minuto. Senz'altro. Grazie, grazie, Sor Maria Rosa. Ok. Don Mimmo, Sor Maria Rosa parlava proprio dell'ascolto, l'accoglienza dei tanti pellegrini. Sì, perché la madre ha avuto anche l'intuizione che nel momento in cui si sarebbe iniziato a costruire questo grande santuario, l'eco di Santa Rita, sarebbe arrivato in tutto il mondo. E che fa all'intuizione anche di creare questo bollettino, che si chiama Dalle api alle rose, dove io ho sempre pensato che non è semplicemente come titolo la sintesi della vita di Santa Rita, l'episodio dell'infanzia di Santa Rita fino ad arrivare alla morte con le rose, ma perché lei nella sua infinita maternità pensa anche di accogliere le bambine, non chiamando le orfanelle perché poteva essere una discriminante, ma le chiama apette e l'orfanotrofio lo chiama alveare. Stiamo vedendo proprio l'immagine del bollettino. Esatto, esatto. E quindi che cos'è Dalle api alle rose? Dalle api, cioè le orfanelle, da quel luogo che è un po' un vivaio anche di amore, di accoglienza, alle rose. Perché tutti noi siamo delle rose. Tutti noi abbiamo le spine, tutti noi però dobbiamo profumare di Cristo. E la madre si rende conto che proprio perché Santa Rita ha vissuto tutti gli stati della vita, lei dice sarà invocata da tutti, per questo ci dobbiamo preparare ad accogliere milioni di pellegrini. E così è stato. E su quelle spine che hanno caratterizzato la vita di Santa Rita, ma anche lunghissimi anni di sofferenza da parte della madre Fasce, vogliamo tornare insieme a voi, dopo la pubblicità, portandovi anche nuovamente a Cascia. Continua la nostra mattinata insieme a Don Mimmo Minafra e siamo ancora in collegamento, tra un po' torneremo proprio a Cascia, dove vi porteremo proprio davanti al corpo di Santa Rita. Don Mimmo, stiamo raccontando della beata madre Fasce, la beata che ha fatto conoscere Santa Rita in tutto il mondo, anche le similitudini con Santa Rita e Santa Rita e la beata Fasce sono state accomunate anche da anni di sofferenza. Certo, Santa Rita per 15 anni ha portato questa stimmata che è stata motivo di grande sofferenza per lei, fisica ma anche interiore. La beata per tutti gli anni del suo priorato è stata segnata da un tumore al seno e lei lo ha detto solo dopo un po' di anni, perché lo considerava il suo tesoro questa sofferenza, considerava la sofferenza come il modo per manifestare ancora di più questo suo amore e per sentirsi unita a Cristo, grazie alla testimonianza di Rita. Io ho sentito un racconto, poi non so se, ma si racconta di una suor Margherita che era accanto alla madre, perché a un certo punto fu necessario operarla, perché questo tumore le ha dato davvero tanta sofferenza. E lei, siccome c'era una specie di clinica all'interno del monastero, lei disse al dottore, sì, io mi faccio operare, però senza anestesia. Allora si dice che, dice, ma guardi se non le facciamo l'anestesia saremo costretti a legarla. E si dice che lei guardando il crocifisso disse, hanno legato te, non possono legare me. E a un certo punto hanno iniziato a operarla. Mentre la operavano ha sentito un forte dolore e i medici se ne sono accorti. accanto c'era questa suora che recitava il rosario, perché lei pregava molto, perché era molto devota delle anime del purgatorio, tra l'altro. Ebbene, a un certo punto si racconta che la madre ha detto ai medici, vi vedo un po' stanchi, vi volete fermare? Allora i medici si sono fermati. E a un certo punto si è fermata anche la suora a dire il rosario. E lei si è rivolta alla suora e ha detto, anche tu sei stanca? Ti sei stancata di dire il rosario? E lei ora ha continuato a pregare. Questo per dirci di come veramente i santi, nonostante siano segnati dalla fragilità umana, si sforzano ogni giorno di entrare sempre di più in intimità con il Cristo crocifisso, che non è il Cristo dei disperati. Perché l'esempio di Santa Rita ci fa comprendere anche una cosa importante, che la sofferenza ci aiuta anche ogni giorno a rialzarci e a fare un passo in avanti verso la santità. Infatti sembra esserci una costante nella vita di Santa Rita ma anche nella vita della Beata Pace, dall'ingresso in monastero fino al vivere la sofferenza. Questa costante è l'affidamento, l'affidamento totale nell'ottica del mistero pasquale, della resurrezione. Sì, addirittura quando lei scrisse a Don Orione, perché era un po' scoraggiata soprattutto nella parte iniziale della costruzione dei lavori del nuovo santuario, lei voleva scrivere al Papa per chiedere consiglio e Don Orione le disse, devi sentirti come uno straccetto ai piedi del Papa. Cioè della serie, vivi tutto nella volontà di Dio. E ogni volta che penso alla madre mi viene in mente una frase che diceva sempre il vescovo che mi ha ordinato, Monsignor Mariano Magrasi, che era anche lui ligure come la nostra Beata. Diceva, prega come se tutto dipendesse da te e agisci come se tutto dipendesse da Dio. Cioè alla fine lei si è rimessa nella volontà di Dio ma ha pregato tanto. Per cui una monaca di clausura, che si pensa fuori dal mondo, è stata lei una grande donna che ha fatto di Cascia veramente un faro luminoso. E allora Don Mimmo è proprio lì che vogliamo tornare. Torniamo proprio a Cascia dove ci aspetta Suor Maria Rosa Bernardinis. Suor Maria Rosa vediamo che si è spostata proprio davanti al corpo di Santa Rita. E questo è un grande regalo per tutti noi. Quindi dalla Beata Fasce a Santa Rita vogliamo provare a mettere insieme le due spiritualità perché sappiamo che non siamo uguali pur imitando i nostri amati santi. Ciascuno di noi ha la sua santità. La Rita e la Teresa sono accomunati dall'amore a Gesù, alla sua umanità. E pertanto, soltanto che Santa Rita, guardando il crocifisso risorto naturalmente, trova la forza di amare. La Beata Maria Teresa, invece, nel cuore sacratissimo di Gesù. Lei sente questa profonda adorazione per Gesù, per il cuore di Gesù. E naturalmente in tutti e due si sprigiona questo forte amore che si manifesta poi nella vita concreta. Ma soprattutto a me colpisce che tutte e due colgono nella sofferenza la possibilità di trasformare quel dolore in amore che diventa poi fonte di gioia. È assurdo questo, posso dire così. Ma è vero. Perché quando uno è davvero trasportato dall'amore di Dio la sofferenza passa in secondo piano perché è offerta, è offerta di amore. È l'amore che trasforma in gioia quella sofferenza. Di per sé la sofferenza è distruttiva, no? Ma il Signore ci ha insegnato a superare e a vincere questo ma con la forza dell'amore. Ecco, noi abbiamo in queste due donne veramente profondamente umili ma grandi in questa capacità di amare. E noi dobbiamo percorrere questa via. Gesù ci ha insegnato la via attraverso l'umiltà e attraverso questa da dilatare il cuore per essere poi capaci di affrontare qualsiasi situazione e in questo affidamento appunto a questo amore di Dio che si spalanca, che continua sempre ad aprirci e a donarsi il suo amore. E sull'orma di cui, sulla scia lasciata da questo amore voi continuate, voi monache, continuate ad andare e come? Attraverso proprio la fondazione Santa Rita da Caccia. Potete vedere tra l'altro anche il sito internet che raccoglie tutte le iniziative di solidarietà attraverso le quali cercate appunto di portare avanti quell'amore. Se mi permetti vorrei ringraziare quanti nostri collaboratori e sostenitori veramente ci vengono incontro, specialmente i volontari quando ci sono le campagne. Adesso per esempio a Natale c'è stata la campagna del cioccolario e veramente devo dire grazie a questi meravigliosi strumenti dell'amore di Dio e poi anche naturalmente a coloro che ci hanno donato. Ecco, accolgo questa occasione per ringraziare tutti e assicuriamo la nostra preghiera anche a tutti quanti. Grazie, grazie Suor Mare Rosa Bernard Lins per averci accompagnato in questa mattinata. Grazie. Don Mimmo, lo dicevi prima, Caccia diventa un faro luminoso, tante opere di carità, lavoro che va avanti proprio grazie alla beata Fasce che ha trasformato Caccia. Un lavoro che va avanti grazie alla provvidenza, perché la madre ha fortemente creduto nella provvidenza. C'è un episodio molto simpatico, bello e anche profondo se vogliamo. Lei diceva alle monache, quando è andata in giro per la questua, per l'elemosina, non dite mai che è per le monache, ma è per le bambine, perché il suo cruccio era proprio quello di riuscire a dare alle bambine che le venivano affidate, ecco, il necessario per farle crescere. E le apette nel corso degli anni sono diventate a loro volta, oltre che educatrici, anche qualcuna di loro, anche monaca agostiniana. Per cui ecco, la madre veramente, possiamo chiamarla madre con la M maiuscola, proprio perché nella sua maternità ha creduto fortemente nel Dio Padre che è provvidenza. E poi mi sono emozionato a vedere la cappella, da dove la priora ci ha salutati, perché io, quando vado a Cascia, vado sempre lì, in quella cappellina, perché lì è iniziato tutto. E la madre, quando vedeva quella chiesa così piccola, diceva come faremo ad accogliere tanti pellegrini. E le monache inizialmente dicevano ma chi verrà mai a Cascia, in questo borgo sperduto. E invece Cascia è una delle capitali mondiali della fede. Sor Maria Rosa poco fa ci diceva, parlando appunto dei parallelismi, ma anche delle differenze fra Santa Rita e la Madre Fasce, diceva che sono sante entrambe, comunicano fra virgolette fra di loro, ma ognuna con la sua individualità. I santi ci chiamano, le sante ci chiamano, leggere le loro vite, avvicinarci alla loro spiritualità. C'è utile, ma poi c'è utile non per copiarli, ma per ritrovare la nostra via di santità. Certo, perché la santità di uno diventa generatore o generatrice, in questo caso, della santità dell'altra, con le proprie caratteristiche. Tra l'altro Sant'Agostino dice, noi dobbiamo aiutare il fratello o la sorella a diventare santi. Quindi, se questo non succede, non è per colpa del fratello o della sorella, ma perché sono stato io che ho mancato di dargli l'opportunità di potersi santificare. Rita è stata generatrice di questa vocazione, che ha fatto della Beata una santa con tutte le sue caratteristiche, con tutto quello che ha a che fare con la sua vita. Quindi questo è bellissimo, perché alla fine la Chiesa è varia, la Chiesa è veramente come un mosaico, e ognuno di noi è una tessera di questo meraviglioso mosaico. Se il mosaico fosse monocromo, che mosaico sarebbe? E invece è proprio per questo che è bella. Don Mimmo, è quel parlatorio nel monasterio, è ancora quel luogo dove le monache raccolgono le testimonianze, le preghiere, le sofferenze di tutte le persone che da tutto il mondo vanno a Cascia. Ma guarda, io vi devo dire questo episodio. Quest'estate scorsa sono stato con la mia parrocchia a Cascia e non ero vestito da prete, lo ammetto pubblicamente, per cui io mi sono avvicinato al parlatorio. Non avevi neanche il gilet? Eh no, il gilet no, perché faceva caldo. E a un certo punto io mi sono avvicinato, però le monache dovevano andare al vespro, però che cosa mi ha colpito? Che la monaca che era dietro alla grata non mi ha detto dobbiamo chiudere perché dobbiamo andare a pregare. Quasi quasi si sentiva lo scrupolo di non darmi il giusto tempo per non ascoltarmi sufficientemente perché doveva andare alla preghiera. Cioè questa piccola differenza ha fatto veramente, mi sono convinto ancora di più, che loro davvero vivono il senso di quella maternità. E quella maternità lo sentono tanti devoti. Approfitto per salutare la Pia Unione Primaria di Santa Rita da Cascia. Tutti i devoti, io poi devo salutare anche tutti i devoti della mia città, perché Bari, oltre San Nicola ovviamente, Santa Rita è una santa amatissima. Io non so se ho tempo, ma quando ero viceparroco, nella mia prima esperienza, ero, sono stato viceparroco al quartiere San Paolo, che è una zona molto particolare, però molto carica di umanità. Quando arrivava il 22 maggio, io e il parroco dovevamo andare quasi portone per portone per benedire gli altarini di Santa Rita. Ebbi l'idea matta di creare il corteo storico di Santa Rita per coinvolgere quante più persone, perché Santa Rita è la santa del perdono. E questo è utile per tutti noi. E da allora, sono passati 27 anni, si fa ancora il corteo storico. Quindi le mie idee malate continuano ancora. Meno male, meno male Don Mimmo. Siamo per salutarci. Sicuramente tante delle persone che stanno a casa vedono anche Cascia come luogo a cui anellano magari tornare, o magari non possono farlo. C'è un messaggio che vuoi dare, un saluto che vuoi dare a chiusura di questa mattinata Don Mimmo? Ma io saluto davvero tutti nel nome di Santa Rita e della Beata, e soprattutto guardando Santa Rita ricordiamoci sempre che noi siamo delle rose che nonostante le spine dobbiamo profumare di Gesù. E siccome io vi voglio bene, vi devo viziare, vi ho portato due rose di Santa Rita con all'interno la corona del rosario. Ma che bella! Perché voi possiate pregare e profumare di Gesù. Questo è per voi. Don Mimmo, grazie. Che bello. Saluti con noi? Sì, volentieri. Il modo migliore per chiudere questo bellissimo viaggio Don Mimmo. Grazie, grazie infinito. E allora, noi abbiamo finito questa mattinata insieme, però domani vi aspettiamo perché domani medaglia miracolosa e poi domani pizzica in studio, balliamo. Con Antonio Castrignanola, la notte della Taranta esploderà in questo studio, quindi anche un po' di Puglia ritornerà a Don Mimmo, che bello. Tempo di salutarci, ma anche di giovedì dovete stare attenti alla vostra salute. E come, come, grazie? Come, ma con la nostra Monica di Loreto. A te Monica, con il mio medico. Grazie.